Il gruppo Lega a Cremona solleva la questione del miglioramento dell'illuminazione pubblica dopo che in commissione bilancio ieri è emerso un dato non trascurabile. 90.000 euro di minori spese dovute al risparmio di energia. Tutto ciò alla luce delle criticità segnalate più e più volte dai cittadini per la scarsa illuminazione di varie zone della città. Risultano nelle minori spese 90.000 euro di risparmio. Chiedendo a che cosa si riferissero, pensavo magari l'applicazione dei LED, mi è stato detto che la gran parte è derivante dai minori costi energetici degli ultimi due o tre mesi. A fronte comunque di un ristoro che sul 2023 è arrivato comunque dallo Stato, quindi di più di 630.000 euro. La mia domanda sorge spontanea. Questi 90.000 euro non potevano essere applicati in variazione di bilancio implementando la risoluzione delle numerose criticità a livello di illuminazione pubblica. L'illuminazione pubblica è un pilastro della sicurezza in città e noi siamo veramente molto attenti alla sicurezza, alla percezione anche che ne hanno i cittadini. Ancora nessuna certezza poi merita all'aumento di stanziamento di fondi per la manutenzione delle strade già richiesto dalla minoranza in un precedente consiglio comunale. C'è poi la partita dei marciapiedi dove più volte è stata sottolineata l'insufficienza di quei 500.000 euro stanziati per la partita. A bilancio ne risultano più di 1.200. A mia domanda aggiuntivi, così parrebbe, a mia domanda specifica mi è stato risposto che di fatto quelli veramente sul piatto per le operazioni sono 500.000. L'altra parte non è in questo momento così certa perché è in una voce tecnicamente di bilancio che non ci dà certezza di utilizzo. Quindi 500.000 euro.